Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Presidente Paolini, la conferenza dei servizi sulla Fano Grosseto, quattro corsie è un bel risultato, no? Beh, diciamo che lo stare insieme comporta anche obbligare a chi deve decidere ad andare nella direzione di quello che decidono i territori. C'è stata un'unità di intenti con i comuni, con la provincia e anche con la regione e per me è un grande risultato che abbiamo aspettato per tanti anni e sicuramente andrà in porto. Per questo voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a questa conferenza e anche il commissario che ha capito le nostre ragioni, perché non si può continuare, e qui lo dico, a depredare o isolare i paesi più piccoli, i paesi dell'interno, perché sono destinati a morire. Invece, e io dico sempre, se sta bene a Pecchio sta bene anche Fano, se sta bene Frontino sta bene anche Pesaro.